... Ve la ricordate la mitica E-Type di Diabolic? Ecco, siamo seduti al volante della sua erede, si chiama F-Type, è l'ultima nata in casa Jaguar. È un roster affascinante, muscolosa, sexy direi. Molto piacevole da guidare, così si dice perché arriverà a primavera, il prezzo partirà da 74.000 euro. Due motori, un V6 in due livelli di potenza e poi ci sarà anche un V8 però che sfiorerà ai 500 cavalli. Che cosa dire, all'interno è il lusso tipico di Jaguar, la posizione di guida sembra straordinariamente tagliata sul pilota. Si potrà personalizzare lo stile di guida sistemando sterzo, risposta del gas, risposta del cambio, personalizzandoli insomma secondo i propri gusti. 74.000 euro, beh insomma non è un prezzo alla portata di tutti ma i sogni, si sa, costano cari. 75.000 euro, beh insomma non è un prezzo allo, beh insomma non è un prezzo allo. E un prezzo allo, beh insomma non è un prezzo allo. Grazie a tutti.